E mentre si contano ancora decessi nelle ultime 24 ore, 4 i pazienti deceduti, uno di Gela, uno di Marianopoli, uno di Nicosia e uno di San Giovanni Gemini, intanto diminuisce il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sono soltanto 3, e anche dei ricoverati in malattie infettive, il numero scende a 68. Nelle ultime 24 ore sono 544 i pazienti positivi, tutti in isolamento domiciliare, 151 i pazienti riscontrati a Caltanissetta, restano molto alti i numeri del capoluogo, mentre 123 a Gela, inversione di tendenza, nelle ultime settimane aumenta il numero dei positivi a Caltanissetta, mentre diminuisce quello a Gela. E intanto per il complessivo riscontro dei positivi sono 1330 in quarantena domiciliare a Caltanissetta, 13 ricoverati in malattie infettive, 3 in terapia intensiva, mentre sono 1184, un numero inferiore, i pazienti in quarantena domiciliare a Gela e 18 sono i ricoverati in malattie infettive.